Idea web con Dana Schmidt, palleggiatrice Ban Mondovì, stiamo a commentare il 3-0 della prima giornata che la squadra ha subito contro Brescia. Dana, una partita difficile, si sapeva che Brescia era un avversario molto forte. Sì, noi sappiamo che loro sono più forti, non più forti sono forti, ma secondo me abbiamo iniziato a bomba, secondo me abbiamo iniziato molto molto bene con tutti i tifosi, la paracetta è piena così, abbiamo divertito questa partita molto. Quindi sì, abbiamo iniziato buona, ma dopo 20 punti abbiamo... non ha fatto un punto, non ha fatto un side-out e dopo è difficile contro una squadra forte così. Ecco, comunque alla fine, al di là del risultato, tante indicazioni anche positive, siete una squadra giovane che sicuramente crescerà. Sì, 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 certo. Cioè la nostra prima partita è ovviamente mai facile, ma dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare in difesa, dobbiamo lavorare in pall'alto. Quindi secondo me abbiamo una buona squadra di cambiare qualcosa in tutto il campionato. Quindi abbiamo... questa è la prima partita di tantissime, quindi prendiamo le positività. Perfetto. Sì, positività è lunedì, martedì, iniziamo la settimana e dobbiamo lavorare.